Abbiamo il piacere quest'anno di avere anche Ales, Neoneli e Assolo. Mi piace ricordare questi tre comuni perché rappresentano oltre che naturalmente un pezzo importante della nostra storia per motivi differenti, ma anche perché rappresentano proprio quell'humus importantissimo per monumenti aperti che trova le sue radici più forti proprio nelle piccole amministrazioni comunali e proprio in questi paesi notiamo l'impegno, la volontà e l'entusiasmo con cui si approccia manifestazioni come monumenti aperti, per cui un ringraziamento anche a queste tre amministrazioni nella speranza che non soltanto gli abitanti del luogo vadano a riscoprire come succede dappertutto, Cagliari compresa, ma anche che arrivino tanti turisti dal resto della Sardegna per scoprire le storie e i monumenti di questi tre piccoli centri.